Che profumo di casa! Eccomi pronto! Oggi mi ritorna in mente gli gnocchi al ragù. Vediamo se posso essere utile per voi con qualche consiglio. Vediamo assieme gli ingredienti. Patate bollite 1 kg, farina 00-400-500 g, 2 tuorli d'uovo, sale, noce moscata e questo è sufficiente per realizzare gli gnocchi. Le dossi che vi ho appena dato sono per fare gli gnocchi, quindi curerò più gli gnocchi e qualche consiglio dal ragù. E proprio dal ragù il primo consiglio che mi sento da dare, perché l'ho visto fare tante volte. Vedo mettere l'olio, le verdurine, la brunoise, farle rosolare, poi mettere la carne. Io nel tempo ho scogitato un'altra tecnica perché uno dei problemi che si ha anche quando si fa il ragù è che la carne non viene mai sbriciolata bene. Allora vi faccio vedere una cosa. Guardate, metto i guanti per praticità, per fare presto. Poi in casa potete prendere anche, poi voglio dire, i miei sono consigli eh, non è... questo ragù potrei farlo in 10, 20, 30 versioni differenti. Ho scelto una strada e ve la sto mostrando. Tutto potrebbe essere consigliato, potrei rosolare, cioè non c'è una tecnica precisa della cucina, c'è la tecnica più la fantasia personale e la conoscenza personale. Vino, soltanto acqua. Guardate che vi faccio vedere, mettete la carne all'interno, mettete l'olio, quello che è sufficiente e adesso fate questo lavoro con i guanti. Faccio vedere cosa succede. Anzi, lo facciamo proprio in diretta, assieme a voi. Vi faccio vedere come la carne si sbriciola e si cuoce. È sempre una questione di tecnica. Questo lavoro, intanto a freddo, ve la fa già sbriciolare. Quando la metto sul fuoco, al momento che l'acqua evaporata, la carne rimane tutta sbriciolata. Metto ancora un pochino di vino. Da quel momento in poi, io vi dico come l'ho fatto, poi la scelta delle carni, delle materie prime, cioè qui è un altro discorso. Però provate, provate a fare questo lavoro. Mettete qua olio, vino, acqua e carne, accendete il fuoco e andate avanti. Così vi ho dato un consiglietto per la carne. Poi qui accendiamo direttamente e lo portiamo avanti. Fate questo lavoro. Dedichiamoci ad altro. Qui al mio banco dei formaggi, pensando agli gnocchi al ragù e alla domenica e al desiderio di stare assieme con la famiglia, prendo anche un caciocavallo stagionato. Lo proviamo assieme a voi, perché chi mi segue sa la passione che ho, anche come per i vini, per gli oli, per tutti gli alimenti in cucina e rispetto. Formaggi, quando possibile, anche per le paste, li grattugia al momento. C'è la famosa temperatura, l'ossidazione, a prescindere poi della materia prima. Questa oggi è una materia prima che abbiamo qui, grazie al nostro amico Anteo di Castro Cielo, che ci permette di provare questo prodotto. Questo è un caciocavallo di bufala. Io lo metto qui e lo provo assieme a voi. Sto cercando di assaporarlo. Ne taglio un pezzettino. Adesso andiamo così, tolgo la crosta e ne grattugiamo un po', perché lo voglio mettere fresco sugli gnocchi. Vogliamo questa cera, questa parte protettiva, e subito ciò così. Questa cosa mi ricorda sempre la casa. Ci vorrebbe la grattugia quella d'acciaio, con il lavoro dedicato ai bambini, mentre la nonna cucinava tutti a fare il formaggio. Via, ci impegniamo a così. Questo appena grattugiato, caciocavallo di bufala, lo metteremo sui nostri gnocchi. Mi fermo. È il momento di, mi ritorna in mente, facile, ma ne faccio pochini. Ok, guardate queste patate, varietà di patate. Non posso soffermarmi adesso qui, vi dico solo che sono state cotte con la buccia, con abbondante, con, lasciamo stare. Cotte con la buccia in casseruolo, con un po' di più di sale del normale, ma la cosa importante, sbucciate e passate a caldo ed allargate. Questo sono asciutte. Poi possiamo mettere un po' di sale se ce n'è bisogno. Uovo, a chi piace. Questa è anche un'altra personalissima. La cosa importante è il rapporto tra, il rapporto che noi dobbiamo avere tra patate e farina. Io dico sempre, a me piacciono gli gnocchi di patate, non di farina. Quindi, come avete visto, io vi ho detto un chilo di patate, un chilo di patate cotte, perché è differente il peso di un chilo di patate crude da quello di un chilo di patate cotte. Così non le lavorate tanto. Qui potete mettere spezie o quello che vi pare. La farina, su un chilo di patate non mettete troppa farina. Questo è il lavoro da fare. E poi, mentre le paste pizze andiamo a farle diventare collose, gli gnocchi potete anche solo tra le mani, passarli così, farli rapprendere. Un lavoro sempre all'interno del tavolo, per non sporcare a terra. È un'abitudine, no? Non li lavorate tanto. Eccoli qua, sono già pronti. Qua, così. Una cosa facile. Con la farina fate questo lavoro. Ecco qua. Pronti. Ristringete tutto e gli gnocchi sono pronti. Perché lavorandoli tanto, qui potrei fare veramente forse un'ora, solo su consigli su cottura di patate e gnocchi, ma noi andiamo veloci. Patate belle asciutte, lavorate, non le lavorate troppo perché altrimenti diventa una massa collosa, che le patate contengono amido e lavorandole poi vi si rovinano. Qua, facciamo così. Sono pronto, ultimo impastatina. Morbidi, morbidi tra le mani. Così. Ecco, così già è sufficiente, eh? Qua. E dai, faccia attenzione a questa cosa. Questo formaggetto lo togliamo, sto cercando spazio per tutti. Per voi. Uno, due, tre. Oh. Qua. La farina ne metto tanta perché poi posso anche toglierla. Faccio vedere come toglierla. Qua. Qua. Ci poteva anche essere un mattarellino, ma io faccio anche a mano così perché credo che voi comunque così li fate in casa, no? Guardate che faccio. Qua. Facile, facile, facile. Faccio tutti e tre già pronti. Mettete la farina senza problemi perché poi prendo un setaccio in ultimo e li setaccio. Quindi qua per voi è questo. Non vi preoccupate della farina trinciante. Ok. Andiamo avanti qua. Andiamo avanti qua. Andiamo avanti qua. Mettete farina così in questo modo e poi fate questo lavoretto. Andate. Li rendete rotondi, no? Vedete? Che ci vuole? Questi già bastano per sei persone, eh? Qua noi siamo obbligati a farne quantità, quindi quando parliamo di 200, 300 persone a mano è come avrei preso neanche l'aperitivo. Ancora farina, non vi preoccupate della farina, taglio sulla spianatoia è questo. Di netto, coltello che passa sotto e gli gnocchi sono pronti. Quindi poi se uno accelera fa questo lavoro. Taglio netto, coltello che passa sotto, impegniamo il ragù. Coltello che passa sotto, eccoci qua. Guardate un po' quanti bei gnocchetti. Poi se volete fare un lavoretto carino, prendete anche la forchettina e ve ne andate giù in questo modo, guardate, qua. Eccomi. E ancora una volta il pensiero delle mie nonne, perché quando ero bambino ricordavo sempre questa parola. stonga a cicali gnocchi, sta a cicali gnocchi, è una brutta parola, però questo qua ci fa prendere la salsa. Quindi per voi è pollice sulla forchettina, sulla grattugia, sul legno. Qua, gli si fa il buco al centro, così vi prendono più salsa. Allora, siamo pronti, siamo pronti per condirli. Il succhettino bolle, l'acqua bolle. Mettiamo il sale all'acqua. È il momento nostro, guardate che belli. La farina deve togliere, sennò fate una besciamella, eh. Eccoci qua. Sta bollendo, sta bollendo. Togliete la farina, andate giù. Io so, voi non potete immaginare che sono da solo in questo studio, siamo un bel po'. Quindi vado giù così. Chi li mangerà il pomodoro? Chi li mangerà in bianco? Vediamo un po' se riesco a farli mangiare a tutti al ragù. Qua, mettete in acqua, una gelatina delicatamente, fate ritornare al bollore. Vi preparo per scolarli, perché già ci siamo. Pulisco tutto e così vi ho dato. Un consiglio per il ragù. Guardiamo poi ovviamente alla cottura del ragù. Tante volte mangio dei pomodori con la carne macinata. ragù è un'altra cosa. Quando tutti i sapori si amalgamano, i sapori dell'orto, le spezie, ognuno poi ha la sua ricetta. Qua, li voglio proprio fare senza ripassarli in padella. Facili. Diamogli un attimo di tempo, eh. Anzi, vi faccio vedere nel frattempo. Questo ragù, l'ho appena scoperto, io l'ho preparato con i pomodori pelati di casa. Ecco perché questo colore è chiaro e l'ho lasciato anche con le bucce, sinceramente. È un po' rusticotto, è ricco di erbe, moderno. Che possiamo fare? Utilizzare la tecnica della carne, sempre con lo stesso concetto di una cottura lenta. La rosolatura è importante perché il sapore non si mettono dati insaporitori alle salse. Ce l'abbiamo naturalmente, sono i prodotti che rosolano col grande olio. Qua, cottura lunga. Ci siamo. Pomodoro casareccio, pirofila calda. Li faccio bollire un po' di più perché non li posso sprecare. Dopo sono cotti male e qui non me li mangiano. Vai! Tornano a galla. Aspettate un minuto che arriva fino al centro. Sono appena appena un po' indietro. Pirofila calda. Ah, li mettiamo qua. Pirofila calda. Non li voglio nemmeno ripassare in padella perché faccio così. Ah, questo. Vengo con la mia bella pentola qui. Qua. Ah, che profumo! Siete abituati a vedermi in altri tipi di ricette, ma questa volta come mi ritorno in mente ho dato sfogo ai ricordi di quando ero bambino. Qua. Qua. Così. Come va? Proprio come fanno le nonna appena la giratella. Così. Morbidi, saporiti. Ha la faccia che i piatti di una volta non si possono fare più. E chi lo dice? Ci mangiamo tante schifezze e facciamo finta di niente tutti i giorni. Ecco qua. Basta così. Io vi saluto con le mani sporche. Vi aspetta la mia prossima ricetta di Mi Ritorno in Mente. Ciao! 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 Ciao!